ciao ragazzi bentornati sul mio canale spero che state tutti bene allora oggi video dove vado a sistemarmi un pochino le sopracciglia perché non mi piacciono quindi volevo provare insieme a voi questo mascara qui questo qui è un mascara della Yves Rocher volevo andare leggermente a sistemare le sopracciglia ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto ho le cuffie perché mi piace avere diciamo quell'effetto un pochino più rilassante non dico che è un asmr però mi piace appunto portare contenuti di questo genere sul canale a proposito se non mi seguite io ho anche un canale asmr vi ringrazio se mi seguite anche dall'altra parte comunque vedrete un sacco di video di questa tipologia su questo canale qui quindi accomodatevi rilassatevi e andiamo appunto a fare le sopracciglia insieme allora il colore è marrone allora io ho le sopracciglia castano scuro quasi nere sinceramente e e quindi insomma faccio sempre fatica a trovare il mascara giusto per le sopracciglia e in questo momento sto utilizzando questo qui che è un castano scuro quello che vado a fare io è semplicemente andare a vedete già la differenza in un secondo appena ho appoggiato il pennellino andare leggermente a definire proprio in questo modo qui vedete la differenza è fantastica la differenza di questo prodotto veramente c'è fa delle c delle sopracciglia scusate fantastiche calcolate che io ho una ricrescita abbastanza veloce del sopracciglio come dei piedi in generale e ho purtroppo il difetto di avere e l'attaccatura del sopracciglio molto molto basso io non capisco il motivo però proprio sopracciglio proprio basso un'attaccatura proprio bassa quindi avendo le sopracciglia affolte e robuste sembra che ho già diciamo mi va un pochino ad appesantire lo sguardo questo questo mio problema diciamo però a me piacciono tantissimo le sopracciglia affolte e grosse il mio problema solo è solo che ho appunto l'attaccatura molto bassa vedete è bassissima la mia attaccatura dei sopracciglio e quindi appena vado leggermente a colorarle a farle un pochino più più grosse diciamo così mi sembra che ho aiuto sono andata a sporcarmi sembra che ho tipo cannavaro sopracciglia di cannavaro un pochino grosse e non mi piace quell'effetto quindi tendo sempre a non fare troppo le sopracciglia anche se a me piace farle perché io adoro proprio le sopracciglia un pochino più folte e quell'effetto un po po disegnato mi piacciono comunque queste qui sono le sopracciglia e devo dire che sono venute abbastanza bene non sono venute male assolutamente e volevo provare anche a fare la laminazione ciglia io non l'ho mai fatta datemi dei consigli se eventualmente voi lo avete fatto se avete fatto questa cosa scrivetelo qui sotto nei commenti perché so che esistono dei kit per fare questa questa cosa anche a casa volevo farla dall'estetista ma non so quanto costa dovrei sentire un pochino i prezzi però e volevo appunto farla a casa so che una ragazza qui su youtube si chiama carola argentini che saluto aveva portato un po di tempo fa un video riguardante la laminazione delle ciglia ed è un video molto interessante andatelo a vedere perché era veramente molto interessante questo video dove appunto vi spiega come fare questa cosa a casa quindi un kit fai da te praticamente ed è molto molto interessante quindi volevo provare anch'io a fare questa questa cosa se lo avete fatto scrivetelo qui sotto nei commenti e eventualmente se l'avete fatto anche voi se potete dirmi anche il nome del kit così eventualmente lo acquisto anche io e niente ragazzi allora io niente oggi un video un pochino breve perché ho fatto una cosa un pochino veloce sono andata ad applicare appunto questo mascara per le sopracciglia volevo recensirvelo è veramente molto buono vi lascio qui sotto in descrizione il nome del mascara questo qui è della il rosce ed è la tonalità 0 5 89 no un 0 5 r 001 cosa del genere ed è un castano scuro quindi per le ragazze che hanno le sopracciglia sul castano scuro barra nero anche questo qui è molto buono ed è molto consigliato perché non fa prurito e dura anche a lungo quindi anche una bellissima resistenza poi c'è anche quello un pochino più chiaro che lo utilizzavo quando avevo le sopracciglia bionde perché quando mi facevo bionda ovviamente utilizzavo un mascara un po che più chiaro anche quello è molto buono e poi c'è anche la versione trasparente che è praticamente quello in colore dove andiamo semplicemente a definire le sopracciglia senza colorarle anche quello lì è molto buono comunque vi lascio qui sotto in descrizione il nome del del mascara molto valido e non costa neanche tanto e vi dura tantissimo quindi direi che è veramente meraviglioso niente ragazzi io vi mando un grosso bacio spero che il video vi sia stato utile noi ci vediamo nel prossimo video ciao